Molto grazie a un nuovo video, oggi faremo qualcosa di bellissimo Infatti ragazzi, oggi utilizzeremo una bacinella super trasparente E in questa bacinella faremo cadere delle cose per vedere come l'aria si comporta sott'acqua Ricordatevi comunque di iscrivervi al canale, soprattutto spolliciare e attivare la campanella E niente Comunque buona visione ragazzi, buona visione Grazie a tutti Pronto di chiedere un puglio in acqua L'ho sempre odiata questa vicina Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti